In generale le sedute, il scansio si svolge attraverso un ciclo, questo ripreso dalla Gestalt, che si snoda tra il precontatto, quindi il momento iniziale di accoglienza, di conoscenza, di riformulazione di quello che l'altro dice e in qualche modo anche di costruire tutto il mondo fenomenologico, percettivo del cliente, per entrarci un po' dentro, quando piano piano poi si arriva a focalizzare un determinato disagio, una determinata unpass e quindi è un momento di contatto dove la persona comprende i suoi bisogni, le sue necessità, le centra in qualche modo e si tenta attraverso anche l'agevolazione del terapeuta che permette degli esperimenti, ovviamente come in una sorta di laboratorio perché non è la realtà, ma quello che accade è reale, emozioni, trasvalimenti, rabbia, pianti, sono situazioni reali che focalizzano sempre di più il problema e proprio nell'esperienza intensa, anche dal punto di vista emotivo e anche cognitivo, che avviene il momento decisivo, il contatto pieno, che è la fase più importante dove si agisce, si esperisce qualcosa per poter poi fuori provocare in qualche modo o stimolare il cambiamento o uno dei cambiamenti possibili nella persona.